Nella nostra chiesa di San Giovanni abbiamo una forma particolare consacrata appunto dalla tradizione, le cosiddette tre ore di agonia o meditazione sulle sette parole di Gesù in croce. Si tratta di un tempo prolungato di riflessione, incentrato intorno alle ultime parole che sono riportate variamente dagli evangelisti e poi consacrate in un ordine cronologico particolare dalla tradizione, brevissime parole come sprazzi di luce che ci aiutano ad entrare nel mistero della passione del Signore. Queste parole vengono commentate da un predicatore e poi sottolineate da momenti di silenzio, di riflessione e dal canto, perché anche grandi artisti musicisti hanno musicato le sette parole e hanno voluto in qualche modo riflettere, oltre a questi anche teologi, predicatori. Questa tradizione ha avuto inizio nel Medioevo, abbiamo testimonianze di meditazioni fatte da San Bonaventura, poi i grandi predicatori francescani come San Bernardino da Siena, San Leonardo da Porto Maurizio, colui che ha diffuso la pratica della Via Crucis. Ecco, questi santi ci hanno aiutato a penetrare il mistero della passione proprio attraverso queste parole di Gesù. Sono come dicevamo degli sprazzi di luce che ci permettono di penetrare in qualche modo il mistero della passione e ci preparano a vivere la Pasqua in pienezza. Dunque noi le celebreremo queste tre ore di agonia, il Venere di Santo, quest'anno è il 15 aprile, iniziando alle ore 17. La tradizione vorrebbe che si iniziasse a mezzogiorno quando si fece buio, secondo il Vangelo, su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Noi non dureremo tre ore, qualcosa di meno, e poi abbiamo adattato l'orario alle esigenze di oggi. Però vogliamo in qualche modo, attraverso questa meditazione e questa preghiera, quest'anno ci aiuterà un predicatore francescano, il padre Alessandro Angeli Santi, ecco vorremmo entrare nel mistero della passione sempre più pienamente, è il mistero che ci redime e ci prepara a celebrare la Pasqua. Pace e bene.